Ben trovati, domani altro consiglio regionale e in quella sise si dovrebbe discutere della proposta di legge del Partito Democratico che potrebbe mitigare l'operazione sanità, ossia dalla chiusura degli ospedali una serie di strutture e servizi territoriali. L'altra volta non fu possibile discuterla perché alcuno della maggioranza spostò il punto tra gli ultimi ai primi punti all'ordine del giorno, per cui il centro-destra fece opposizione, ma è stato di fatto un gioco delle parti tra Popolo delle Libertà e forse anche una sinistra vendoliano che voleva ostacolare l'ipotesi del Partito Democratico. Intanto si legge che gli sprechi per la sanità e della sanità pubblica in Italia e anche nella nostra regione non siano responsabilità di mancati controlli da parte della politica o di incapacità dei manager a gestire i singoli nosocomi e le ASL della regione Puglia, ma colpa dei medici perché c'è un'indagine voluta dall'Università di Napoli che mette in evidenza quanto coloro che prescrivono medicine, ricoveri, eventuali analisi lo facciano per precauzione per non mettersi contro i pazienti. Sarà questa anche presumibilmente una lettura, ma credo che non possa o non si possa far pensare che 710 milioni di Euro sprecati siano sprecati per colpa dei medici, di coloro che assistono le nostre famiglie. Vi faccio degli esempi. Per i farmaci c'è uno spreco in Puglia dell'1,9% della spesa e corrisponde a 127 milioni, così come il 73% dei medici dichiara di prescrivere visite specialistiche inappropriate. Tali prescrizioni costituiscono il 21% di tutte le prescrizioni, così per i ricoveri, per gli esami strumentali, per gli esami di laboratorio. Io non credo realmente a queste motivazioni, anzi vado a leggere, e lo leggiamo anche sui quotidiani di oggi, una battaglia quasi aperta che ha dichiarato il PD a vendola. Come mai, per quale motivo, cerca di smarcarsi da qualcosa che potrebbe uscire e sapersi da qui ai prossimi mesi? Come mai Sergio Blasi, che è stato il più vendoliano all'interno del Partito Democratico, dice, e nicchi che frena il cambio generazionale a proposito dei direttori delle ASL, per quale motivo si chiede l'azzeramento o qualcuno chiede anche il commissariamento? Se si chiede il commissariamento significa che la politica non è in grado di individuare i nuovi gruppi dirigenti, ha ragione Sergio Blasi, che è il segretario regionale del PD a dire stiamo costruendo un nuovo gruppo dirigente, giovani, 35 anni, 40 anni, che potrebbero essere pronti, ma mentre si ipotizzava attraverso le fabbriche di nicchi l'avanzamento del nuovo, proprio nicchi blocca queste scelte. Parole coraggiose, ma spero che non siano solo parole strumentali. Per quale motivo si attacca oggi il governatore da parte del maggior partito all'interno del centro-sinistra e del centro-sinistra e per quale motivo si dice grande uomo di scienza fiore, però deve ascoltare noi e invece fa comprendere il PD, vi è una condivisione totale tra l'assessore alla sanità e il governatore, escludendo i partiti che formano la maggioranza. Non vorrei che quanto dichiarato alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato e alla magistratura da parte dell'ex assessore alla sanità tedesco, stia facendo riflettere i gruppi dirigenti del PD che in questo modo tentano di rendersi autonomi da quelle scelte che Vendola, secondo le parole di tedesco, condivideva e anzi suggeriva a quest'ultimo. A domani.